Presso la casa delle associazioni via Dante Alighieri a Rosta è visitabile fino al 14 febbraio l'esposizione La Donna Immaginata, l'immagine della donna, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, consulta femminile. Fino al 19 febbraio è visibile presso la sala espositiva dell'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale la mostra fotografica Popoli, tocchi di colore, dedicata alle popolazioni Yanomami del Brasile e Samburu del Kenya Le ali della storia, l'aeronautica militare italiana dalle origini alla seconda guerra mondiale è il titolo della rassegna allestita nella biblioteca della regione via Confienza 14 a Torino, visitabile fino al 2 marzo A Palazzo Lascaris fino al 3 marzo è visibile la mostra dalla carrozza all'aereo i piemontesi e i mezzi di locomozione nella fotografia dal 1860 al 1960 che espone immagini storiche e modellini dei mezzi di locomozione A Chieri, presso la biblioteca via Vittorio Emanuele II 1, è visitabile fino all'11 febbraio la mostra Il fascino borghese della fotografia politica, costume e società dall'archivio fotografico del Borghese Il fascino borghese